Benvenuti giovani pandawan, ci troviamo oggi su Life is Strange e ragazzi, allora, eravamo rimasti qua, capitolo 2, abbiamo preso il pullman, siamo arrivati qui, vecchietto, guardiamolo un pochettino, immagino che nella sua vita abbia visto Arcadia Bay, studiare molti cambiamenti, parla. No time for chitchat, I'm a millionaire, yep, got my lottery ticket right here, waiting for the bus so I can cash it in. Hai proprio la faccia da milionario, sì, 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 guardiamo questa. Sono appena ascesa. Ma chi sei? Chi te l'ha chiesto, soprattutto? Ok, ok, parliamo con la prima sconosciuta che è, bh, non lo so. Non voglio andarci, madonna mia, con quale faccia però lo dici? Eh, va bene, basta dirlo, semplicemente. Come cavolo si... no, non dovevo andare in niente, non così, mi dimentico sempre i tasti, i mortacci, mia. Ah, the plan, allora, vediamo un pochettino cosa c'è. Guarda quanti volatili, peccato che nessuno li leggerà. Situiamo la linfa vitale ad Arcadia Bay, salviamo la nostra vaia, fermiamo la distruzione dell'uomo. Va bene. Eh, guarda. È l'acqua più spottata del classico pescatore scontoso di Arcadia Bay. Madonna. La città è cambiata, parliamo più tardi. La città è cambiata? Ma chissà che cavolo è successo, sarei cavato, ha una barca, ha una barca? Ha chiamato la Bali Hai, anche se i tempi sono riusciti a tenerela. Forse non per molto. Famiglia Prescott. Allora, aspetta un attimo, gli chiediamo se li conosce o gli diciamo che sono i padroni della mia scuola. Penso che... Penso che direi padroni della mia scuola sia abbastanza scontato, visto che ha detto che potrebbero rinominare la città in Prescott Bay. Quindi facciamo li conosce. Aspetta un attimo. Voglio provare a tornare indietro e chiedergli... E chiedere... Ah no, vai un po' più indietro. Ehm... Vai, posso andare un po' più indietro, vall'edizione? Qua. Ok, qui. Parla. Eh, sì, salta. Salta. Allora, la città è cambiata. Salta. Salta. Ehm... Ha una barca. Salta. Salta. E salta. Eh, che cavolo. Famiglia Prescott. Ok. Eh, dai. Eh, dai. Allora, li conosci? Diciamo che sono i padroni della mia scuola. Diciamo che sono i padroni della mia scuola. I padroni hanno ottenuto rispetto quando si mettono i padroni della scuola e delle biblioteche. Non si può andare a scuola. Ok, c'è tutto questo casino per questo. Vabbè. Ok, possiamo... Allora, dobbiamo andare da... Da... Però parliamo giusto un attimino con questo qua. Ultimo. Infatti che... Guarda. I padroni hanno spiegato con la nevicata. Snow? Eh, beh, non male come incipit, effettivamente. Allora. Servizio metro sconvolto dalla neve. Il Servizio metro nazionale non ha ancora trovato alcuna spiegazione. All'inattesa nevicata avvenuta ad Arcadia Bay, Oregon, questa settimana. Vabbè. Ok. Non molto. Vediamo questo cosa dice. I padroni sono retrosi in breve. Scusami. Sir? Potete credere questa città? Il mondo è a fuoco e la nostra grande linea è snow. Sì, effettivamente. Nuvole. La leva è stata strana. The snow was pretty odd. Was right in the middle of a warm sunny day. Oh, global warming bullshit. It's the northwest. Snow happens. I keep reading how Arcadia Bay is booming. The paper can only talk about that or about missing girls. Hmm. Questa città è un misteri, diciamo. Vabbè, non ho voglia di perdere tempo con la tizia, la scomparsa, insomma. Anche se forse avrei missing... Vabbè, ma è ovunque, però. Forse avrei dovuto chiedergli. That smell of breakfast and the sound of clanging silverware. Good lord. Talk about apocalyptic. Cos'è? Prescott, vi invita a vivere nella foresta. Residenza di luce a pezzi ragionevoli. Ma levati dal cavolo. Prescott, il cavolo. Allora, Trevor. Oh, c'è Trevor. Trevor looks as happy as Dana did. Hey, Trevor. Allora, Max. By the way, I know you saw me in the dorm. Senza di da. Yeah, I saw you coming out of Dana's room. Yeah, and I finally had to tell Justin because, well, he was into her too. How did Justin react? I got him blazed. He was cool. Nobody has secrets in Blackwell anyway. See you in class, Max. Vabbè, Justin pure. Justin is such a mellow dude. What's up, Justin? Getting my coffee on before I cut class and destroy some rails. Shouldn't you be taking photos? Ehm, not ancora. Not yet. I need to get my coffee on too. Yeah, throw in a little green bud and you have the perfect hippie cocktail. You are so not a hippie. So where's all your homework, schoolgirl? School? Speaking of buds, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Ma che cavolo gli dici queste cose? Ma fatti i cavoli tuoi. Ma ce l'hai davanti, Trevo. Ma porca di quella vacca. Ma guardate, allora, dov'è Chloe? Camionista, camionista. Ma che caspita. Truckers has such a romantic life. Così romantica. Oh, ma dove cavolo? Allora, spositore cibo. Che noi dobbiamo guardare. Fai una foto. Madonna, ho fame pure io però, porca vacca. Jukebox. Ehm, guarda. La c'è un'immagine, guardiamo un'immagine. Ma è normale. Ken Keezy with Joyce? That's so perfect. Leggi. Joyce, il migliore hamburger è la migliore atmosfera dell'Oregon. Ma porca vacca. Ma è normale che io debba veramente guardare ogni minima cosa? Allora, ma vabbè, vincitori di pesca. Ma che me ne frega, Dio santo. Allora, qua non si può andare. Dopodiché... Vabbè, io parlo con i camionisti. Donna mia gentilezza. Attacchiamo briga. Ma che caspita. Vabbè, ehm... Dai, lo sapevo che lei rispondeva così. Poverina. Madonna mia che gentilezza. Ascolta, se l'altro camionista è così... Col cavolo. Poliziotto. Affamata. Magari ci scocchiamo da cibo. Cioè... Chloé. 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 Devo andare. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. Allora, io ho tipo, c'ho un tipo, vabbè. That guy looks unpleasant. No, infatti, lasciamo perdere, disse. Buttare di gomme. Oh, man. I bet that's the same gomme from when I was here. Guarda tutto, guarda tutto. Questo qui è così. Cosa? Vabbè, ma perché? Ma porca, vacca. Ma allora, ma insomma, la miseriaccia infame. Dove caspite? Troppo da turista. Ma che caspita te ne frega della maglietta? Vabbè. Eh, io voglio capire, ma Chloe. Allora, questa chi è? Donna strana, no. Pescatore, no. La donna strana. Che caspita sei tu? Sì, vabbè, ciao, eh. Mamma mia, pure le stranezze, no. Allora, graffiti. Qua c'è il bagno. Ma io ho... Quella scritta li da una vita, capito? Che schifo. Foto, facciamo una foto. Facciamo una foto. Sventola, ok. Perfetto. Eh, e ora che hai fatto la foto? Graffiti. Grazie, Redneck Poet. Arcadia Gay Saksdak. Eh... Ma io, io, io. Beh... Ma forse devo parlare... Scusa. Allora, parla. Ehm... Joyce. David. Ehm... In curiosità. Ma io in realtà volevo... Vabbè. Vabbè, questi cavoli. Ma, oh, ma porca di quella putrella. Ma io posso parlare con Joyce a sto punto, veramente? No, non ci arrivo qua da Joyce. Penso. Che devo fa... Allora. No. Qua non ci posso entrare. Posso... Ma sto camionista qua? Vabbè, io... Mamma mia. Tipo strano. Sì, c'era da... Tipo... Palla. Ehm... Vabbè, ho capito, insomma... Ehm... Dove è Cristo? Pall... Fescatore. Palla. Non è che l'occhio Ma io non Vabbè Posso fare qualcosa qui dentro Joyce vieni qua No non posso avvicinami a Joyce Boh io ho parlato con tutti qui dentro Non so che fare Cioè o c'è ancora qualcuno Ah posto ma baffan Mocca te va Ma Dio santo tutto sto casino per andarsi a sedere Ma seriamente Ma questa io non ho capito Ma è la madre di Chloe Adesso scivola Succede qualcosa lo so già No non succede niente Questa è una grande influence in her life now Chloe needs an old friend again Joyce I am so sorry about William I have great memories of him Mamma mia I'm glad Max That was his gift to us Wonderful memories Even if Chloe doesn't understand yet Chloe capisce Chloe understands She just needs time I know that sucks for you Oh she hit all the phases Expulsion Running away Drugs Bad boys Tattoos Piercings Blue hair Now she's gotta rebel Against her stepfather I see why I mean Do you? He's not as much of a hard ass As you think But you did tell him You had a joint Right? You took that responsibility Oh dear Oh dear Eh Si He does care about her Along with all the students At Blackwell Eh Tiene a Kate Mars He cares about Kate Marsh David mentioned her But I'll stay out of his business I won't patrol Blackwell And he won't cook at the diner You know I saw him arguing with Kate I thought you might know why Nice try Nancy Drew But next to you There's only one student I'm worried about And she's not even in school anymore So Now let's get down to the nitty gritty What do you want to eat? Allora Omelette con bacon O waffle alla belga Io non ho idea di che cosa siano i waffle alla belga So cosa sono i waffle Ma non so alla belga che cavolo significa Quindi andiamo con omelette al bacon I was dreaming about your bacon omelette Now finish your coffee Vabbè Vabbè Allora 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 Vediamoci chiaro Abbiamo fatto un giro di questo posto Ci abbiamo messo gli anni di Gesù Cristo Più la resurrezione Graffiti Eh non ho letto Che cosa che ha cambiato al menù sono i prezzi Eh grazie al cavolo Magari Guarda Graffiti da nerd Guarda il caffè Eh bevi Va bene dai Beviamo questo caffè Arriverà al punto dove mi farà salvare This is like fourth dimensional deja vu I keep going back in time No beer Looks like you had plenty Stick with the bacon Ok Eh ma Che cosa mi Ah guarda Alla finestra Guarda fuori dalla finestra The lighthouse looks so mysterious I wish I could stay in this moment forever I guess I actually can now Che bellissimo istante But then it wouldn't be a moment Ok Che cavolo devo Che Che devo fare In arrivo Ok Va bene Dammi stomelette Che quanto Chiudo il video Dannazione Che fama Ha fatto venire pure fame Naggio tantissimo Sì ecco io C'ho l'acquolina in bocca Still can't believe you're a woman When I look at pictures of Chloe Speak of the devil Bah Tutta traslina Chloe and Max Together again And Chloe Looking for a free meal You put your whole damn college fund On your tab I'm treating Chloe For breakfast Are you a toning For yesterday Oh god mom Please do not give Max Any shit for that She apologized I know she did Max is a good girl Woman She's 18 now She's 18 now Too old to get lectures From you Sgt Pepper Call him David If you don't want to be lectured You only get one damn slice Of bacon a day Ma 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 You guys are still the same Another reason to blow this town Ma 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 What is this shit on the jukebox Io non la sento Now that that's out of the way Io non la sento Vabbè Vabbè Balliamo Let's talk about your superpower I don't have any explanation And I can't explain why I saw that crazy fucking tornado Come on that's just a daydream I want proof you can rewind time This is all happening so fast We'll start slow Right here Now I can tell you every single thing you have in your pockets You have x-ray vision dude I don't even know what's in my pockets. Let me see Effettivamente cavolo, ti fa vedere prima che cos'hai nelle tasche, poi torni indietro, lei non tira fuori le cose Spera, ma io non l'ho visto che cavolo c'ho Ma non l'ho visto Porta che va a te, scusco Ah ok, lo stavamo sparando a cavolo E appunto, diciamo, però non l'ho visto, come faccio ad indovinare? Allora, sigarette, porta chiave Allora, guarda Ma guarda tutti gli oggetti e non dimentica niente Allora, porta chiave ad orsetto Le sigarette, le monete e... Che cavolo è un ticket di... Non ho capito che cosa, va bene Ok Torniamo indietro Ci sei, Max Adesso mi avvolgi e sbalutti i ciclo Vai Vai, 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 vai Vai indietro Posso riprendere da qui? Ok Allora Sigarette Scrivi il mio porta chiavi Porta chiavi A panda Ah, anche a panda Ai culo Che altro c'è? Gli mettiamo una multa? Ah Oh, porco Aspetta A chiudoglio l'hanno data? Non l'ho letta Ah, non l'ho letto Alle 10 e 34 Porca vacca, che culo Eh, soldi Vabbè Non lo so Non l'ho visto Quanto c'ho? 86 centesimi Ma veramente? E poi c'ho le sigarette che c'ho Non le ho contate Li mortacci tua Ne avrà sette Le sigarette Cool Anche l'ho azzeccato, raga Giuro che non le ho contate, davvero Ho detto tutto giusto Ho detto veramente tutto giusto Oh Cristo Dio, ho detto veramente Lei stava dicendo tanto per E in realtà ce l'ha veramente tutte giuste Sono una cazzo di genio Sono una cazzo di genio, veramente Buonissimo Grazie Mi fai salvare Va bene Come fai a predigli il futuro, scusami Come fai a predigli il futuro, scusami Come fai a predigli il futuro, scusami Allora, cosa posso guardare? Ops Ok Ho trovato una tazza davvero Perfetto, questa è da evitare Perfetto, questa è da evitare Ok, allora, posso tornare indietro? Io torno, eh Vai Ok, siamo tornati Parla Ok, allora Trevor fa cadere il bicchiere Ok E risponde E risponde Ehm Allora Justin e Trevor litigano Non è vero Non è vero Perché non ho letto di picchi Non è vero un cavolo No, aspetta, aspetta Non ne vedo niente Allora, parla Allora Ehm Il camionista fa cadere la tazza Ok Poi Ehm Non mi ricordo, forse risponde Poi c'è Poi 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 E Jaycee li ferma Ok Ok E l'ultima cosa Non Non c'è scritto Dai oh Dai oh Allora Poi 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 E ne manca una La tizia che va in bagno La tizia va in bagno Che cavolo è successo E quindi Ne manca una Di morta Ok aspetta No, 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 basta Allora Non le avevo fatte accadere Quanto cose in effetti Allora Aspetta un attimo Dunque Mmm Il camionista fa cadere la tazza E va bene Poi 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 E risponde Cosa succede dopo E Jayce li ferma Ok E l'ultima cosa Il jukebox si impazzisce Dopo che una blatta ci cammina di sopra Ehm Che cavolo è che l'ha Dovrebbe essere questo Perchè non è che lo vissi Perchè non è che lo vissi Ok dai Allora Fammi vedere se Se succede tutto Come ho detto Dove che poi Non so da quanto tempo sto registrando Ragazzi Penso che farò video un pochettino più lunghi Allora La tazza E' volata Poi No 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 ho capito ho capito ho capito ho capito Aspetta 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 Che palle Allora Allora Ehm Il camionista fa cadere la tazza Poi Dopodichè Ehm Il poliziotto dice E mangia una ciambella E risponde Il suo collega se ne va Ok Poi Poi Joyce li ferma E poi non ho capito che cavolo succedeva al camionista Cioè no al Vabbè facciamo così Dai Dai vediamo Allora Ultima volta Dai Allora lei Va Sì ciao Lui Lui fa cadere la tazza Solita Ok Poi Quello riceve la chiamata E lui Se ne va via Perfetto Quella Ferma i due ragazzi E in teoria adesso il camionista dovrebbe cambiare la musica Ok perché No è la blatta 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 Ok 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 Allora 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 salta Allora Fa cadere la tazza Poi 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 il suo collega se ne va Poi Poi E Joyce li ferma Ok Dopodichè Una blatta ci cammina di sopra Perfetto Vai Ok 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 Questa qua è quella giusta perché appunto abbiamo fatto tutto giusto e quindi Chloe sta vedendo quello che succede Allora Spettacolare Spettacolare Incredibile Qu'è quello di oggi? Beh Questa Alla Chloe caverna Ok ragazzi Penso che in questo video abbiamo fatto parecchia 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 roba Tanta tantissima Forse mi sono un pochettino persa di più verso l'esterno Vorrei sapere da parte vostra Se è necessario che io mi soffermi Su ogni fottutissima cosa Come vi avete detto Nei commenti degli episodi precedenti Adesso cercherò di portarlo quasi tutti i giorni Life is strange in modo da completarlo Perché devo portare un sacco di altre cose Un sacco un sacco un sacco E quindi ragazzi Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su Io sinceramente neanche mi sto rendendo conto di quello che sto dicendo Non mi sembrava neanche di star facendo un video Stavo giocando Mi stavo gorendo la storia del gioco Mi ero completamente dimenticata che stavo registrando Molto bene Vabbè ci vediamo al prossimo video ragazzi Ciao a tutti